bomba è... no ma non le modifiche raga ormai la cassa ficcata era solo bomba solo? si ma da quando? è da un botto però in realtà non si chiamava bomba oh costa bella porca è certo però teoricamente ci dovrebbe dare della gente scarsa perché comunque non siamo classificati va bene va bene va bene noi impegniamoci la massima della gente ci tende a fare ci buttiamo via? allora Fuse è un dito in culo però anche qua no Fuse è poco Fuse è poco veloci 3 Jack Call Jack Call Jack Call Fuse è poco Gabri ma Jack Call noi comunque non... no si va bene eh ma i nemici lo usano e costa perché è grande cioè Fuse ha poco da fuzzare a meno che non... siamo noi in difesa nelle finestre ma nelle finestre è rischioso se volete in classificata io qua uso eco eh bah... bah... toucher toucher ma che coglione si ma sono loro gli attaccanti vabbè beh possono usare twitch ma ti è molto peggio secondo me si ma twitch ha meno carica e se gli distruggi il drone è finita è molto più che faccio usare toucher per fare quello qui del fan ti metti magari in mute immediato oh flash buono allora buttiamo qualcun altro magari non cavera se volete usarla per caso noi non usare non... non buttiamo bandit on mute non usare davvero dai ma bandit on mute che cazzo dici? sono quelle che devi prendere no infatti ma... ha maggior ragione che loro si sono tolti toucher si allora dove andiamo raga io direi che la cucina ce la teniamo per ultima in basso si direi anch'io io direi comunque che siccome non c'è il toucher l'aga si potrebbe giocare più con mute e bandit allora io direi attico home theater va bene si mute vuoi usare? ok vuoi usarlo te? uguale se vuoi usare... ok l'ultima volta io sono nato da dio con... vado con jager vado con jager io vado con maestro prenditi mute va bene va bene va bene vado con maestro vado con il pillo prima jager jager ma attaccati al quazzo coglione abbiamo pil pippo dai pli pippo oh pli pippo ah no mi sa che è un team abbiamo cagno 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 80 fede barney fra sono tutti italiani 2006 raga eh ah no metà di tesserella matte bene se se va male la picchio la picchio io la picchio io uno nel 2005 non si fa violenza si chiama di cognome tua sorella che... non rompermi il cazzo ma che cazzo ti interessa ma scusa? ma perchè c'è ma c'è un pedofilo di merda il coglione secondo me gabrie aspetta che tua sorella abbia 18 anni così almeno poi non può mettersi... in peli giovani su facebook ma dove cazzo vivi gabrie? gabrie sei in coda uuuu si chiama sorrata si vai sei in coda perchè mica te ne è sarei a prima cosa prima ah 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 non ce l'ho deciso e ho passi scherzi non sarà Forest no non è lei scambi di sorelle mica ah 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 Ancora vendita la mia Te la butto a tosse, guarda Eh, ragazzi, spacchiamo qua Spaccate qua, raga Forse non... No, sì, è meglio spaccare qua, forse Raga, non twitch Perfetto Ah, merda, il cazzo di... Cazzo, ma io no Bagno, 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 bagno Porco di raga Raga, ma no Raga, è illegale questa cosa qua Eh, quello, le shot No, no Guarda me, guarda me Tu non sai dove mi hanno ucciso, Gabri Poi te lo faccio vedere Sono fuori No, raga, è illegale quella roba lì, è illegale Ah, sono già entrati, raga Piazzano, piazzano Stanno passando, vai, vai Buttala nitro Cazzo No Fuori dalla finestra, porco Sono fuori, sono usciti fuori dalla finestra, raga Sono fuori che stanno mirando Ma non maschera, ragazzi, cosa dice? No, raga Eh, no Costa di tranquilla Eh, no, raga, ti prendi Eh, da solo Sei da solo Sei da solo? Chi ti copre, scusami? Ma perché questo è stato Le pippo Cioè, non lo so Questo qua è sotto No, Gabri Gabri, hai presente Lì dalla finestra dove eravamo Che dall'altra parte c'era quel C'era un palazzetto Che coglione Ci si può andare sopra, Diobono Il cecchino c'è andato sopra Bisogna avvastare qualcuno da Eh, sì, ma sai cosa? Eh, bisogna fare delle cosette No, 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 mi sa di no O sono i glitch Come è possibile No, non è un glitch C'era anche un tempo Se riesci a salire in una maniera bene Nel camioncino Andiamo lì Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo di mo' sopra Che stavolta io Non uso maestro Ma ci vado di Ah, no, scusa Vado con maestro E mi metto Ma siamo in sala peri Atti con teater E andiamo anche con teater Allora maestro Non serve un caso Aspetta Dove siamo tutti Di morti Ma no, andavamo di mo' so Intanto sapevo come trattarli Perché Perché stavo dall'altra parte però Gabri Potevamo provare al bar blu Lì come cazzo si chiama Ah, ok Eh, raga c'era qualcuno Con lo scudo mobile Io, io Me lo sai mettere qua sopra? Virato di qua così Te lo metto dopo Mettila adesso già Ma quindi sono entrati dalla finestra no? Non lo so Io sono morto per primo Ma, Matti Non te lo fa mettere? Matti Oh Sono entrati da questa finestra? Gabri Sì, il finestrone Poi c'era il cecchino Che stava nel suo grid Mi lascio una bella sorpresa Questa volta Non me lo so meglio Mettilo allora Mettimelo qua allora Qui Cazzo Peccato che non fa più Mettere lo scudo La No, un po' c'è di merda Che cazzo lo metto qua Deveva troppo tardi Qualcuno sta lì dentro Dì, ok Visto io ma Ok, c'è un nomad qua Deveva un drone Ah, hanno fatto la botola raga Sono un c'è vicino Mi ha cazzato il rumore Ah raga Stai notando zero raga Mi sa che mi stanno guardando Hanno notato zero Qua dietro Mi chiamo Ti vieni qua Dove sono io Aspetta Ah, cazzo lo stavo per prendere Ah, dovevo busciare da un'altra parte Non, anzi Con poca vita Sono dietro il mio muro raga Hanno messo a zero Provo a fare Comunque no, ma da metà vita Bravo Matt Sono rimasto fermo immobile raga C'ho una paura Bella Bella Madonna zero però Figo, figo Eh, spacca il culo Uff No, perché ho sentito Delle cose E non capivano Madonna Dove gli è arrivato un colpo? Hai visto? Cristo santo Come gli ha passato a fianco Ora ce la giochiamo in cucina Sì Eh Proviamo Però secondo me Dimmi tu Va bene, no Va bene, va bene Però non so con cosa andare Sicuramente è qualcuno per i mori Io con eco sicuro Perché appena entrano Li stunna bestia Non ci è arrivato con un master Eh, anche di trappole Secondo me con un frost No, frost no A parte quella finestra lì Non serve niente Potevo prendere mute Io ragazzo qua Ho riuscito a spaccare questo Spaccare cosa? Eh, sì Io Metto però il muro qua, no? Eh Sì Il muro lì E spaccare questo angolo qua Ok Te lo faccio dopo Te lo faccio Così almeno Ok 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 Io dalle porte raga Metto Lo jaeger Così almeno Non lanciano le merde Questa l'ultima baricata Lasciatemi la raga Che mi serve Va bene Attento Attento Porta Troia Ok L'avete messa lì Ehm Ci abbiamo ancora due baricata No Ah vabbè Eh sì raga A parte che lo prende Grazie Finestra 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 Wow Wow Qua Entrata principale Finestra Sì qua giù Ah Qua Ce lascia Ah no È quella col cecchino Ah Non me lo può distruggere Iona con quel cecchino Di merda Ok raga ho messo Ieko Lasciate che entri Bravo Lasciate che entri Non piccate Sì basta Mica Basta E' lui che picca E' lui che picca A me E' fuori Tiene perché c'ho l'eco Perché ce l'ho proprio lì sotto Tiro E' Va Contro la finestra della cucina E' il corridoio dove piccavano Bravo sto felipo qua Arco di Un po' mezzo Buggato Ok il cecco è andato Controlla lì gabriel C'è uno C'è uno Ho visto il mirino laser Eh lo vedo Lo vedo Ok l'ho vista E fuori E fuori esce Può stare da fuori che drona Ok è stunnata fuori che drona Quella troia Dai bagascio Entra Ma è stunnata nel momento giusto Se la riesce a rispondere Oh no è dall'altra porta Ok perché esce si può fare anche il full team Ok Madonna ha fatto quasi full team Beh ci siamo messi bene Io con me il maestro lì che si entravano per piazzare Perfetto E' un grande Ci sta Anche lì in mezzo si diverte perché Sta mettendo 6-0 Ma va che il primo round non è morto apposta Perché porca puttana Non si è fatto Questi vanno sopra vanno sotto Penso sopra Come andiamo raga qua? Allora io sopra direi Dobbiamo fare quel muro in quella stanza dove c'è il divano a cerchio Però quasi quasi uso anch'io 0 Per vedere come stanno là dentro Uh e vado con l'MP7 dai Proviamolo Io per non saperne già ne scrivevano con Tachank Sì Tachank Su Twitch così Matt Ah bravo Zero ci sta Sì 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 Peso Thermite C'hai il disinnesco Matt Ricordatelo Eh Sì Teoricamente lo colo di l'alcare Per non farci fare il turno Speriamo Chi è? Eh Dove mica te? Cosa Gabri? Eh ma io devo usare il drone Perché io controllo Perché io poi piazzo le videocamere E me le controllo un po' Ah vabbè che potete controllarla anche voi Quindi Un po' mi converso è attivato Allora Sono qua Fuota sopra Mi sono un po' feriti a vicenda Mi sa Sì un po' feriti a vicenda Ah perché hanno lanciato Il vegano C'è il legion 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 Mi sa che giocano 6 E si barricano dentro Sti qua Sono full barricate Questo Ninca hanno scelto Non proprio Non proprio B non lo definirà Come più barricata C'è anche la scoccia Toglie sulle scale Le scale blu Ragazzi Non c'è Cerca di distruggere Le porte Che ha Dove ha piastato La nuova operatrice Non ricordo La cosa di esce Distrugge il castle Vero Sì Perfetto Allora E io push Da questo lato Devo salire su di sopra Io raga Potrei anche entrare Da Da b E quello al punto Cioè Sendo montagna Posso entrare tranquillo Il problema è che Hanno preso La tipa nuova Quindi a rumi È un po' Un dito in culo Io non dovrei pushare Sinceramente No non c'è Qua Aspettate raga C'è un'idea Io sono zero Guardate cosa faccio C'è un'idea Non si distruggono Con le porte nuove Raga Ma che cazzo è? No devi distruggere La cosa che sta sopra Eh Sì ma non funziona Come no? Non si distrugge La roba sopra No mi sa che si Quella roba La disattiva Cosa dite Il laser Edite? Il laser si distrugge Temporaneamente Si disattiva soltanto Temporaneamente Lanciandogli un gadget Quella che mi disattiva Sti muri però raga Perché se no Non posso Quei cosi laser? Eh Sì perché se no Non posso lanciare Il coso per guardare Dietro Se c'è il muro elettrico Provo ma Eh niente Non posso piazzarlo raga Non abbiamo preso Nessuno per Eh questi muri qua Gabri Perché io non posso Fare un cazzo Se no Ah niente Abbiamo già perso Troppo tempo C'è una buona tante Ce la fai? No Vabbè raga Venitevi a prendere Il disinnescatore Che io puscio All'unico Bravo mica No ma che cazzo Oh L'avevo messo in ferimento E' venuta lei a rianimarla Ma cosa? Ma cosa? Ma da dove? Abbiamo sbagliato Io non dovevo stare dalla finestra E devo pusciare da dentro Ma no no raga no Porco dio no Quello non lo accetto No Raga guardatemi le videocamere Ma porca puttana Da qua Ma anche da qua Dove? Da sotto Ma è sotto? Vai Maxi vai Piazza 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 Gabri coprilo Eh guarda quella Quelle scale lì Gabri Ah zitto porco Vai via vai via Ti diciamo se entrati Sinnescare Te lo diciamo a noi E' entrato mi so Lo vedisci Lo vediamo Noi vediamo il disinnescatore Lo vediamo Cerca di disinnescarlo Quindi non è raggiù in fondo Non entrare Mi vedono anche loro Cazzo Non ti cazzo Non ti cazzo Ok sta entrando E' dietro il tavolo da biliardo E' dietro il tavolo da biliardo Ok lo fa Lo fa Vai 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 No no Ha smesso ha smesso ha smesso ha smesso Stai fermo mate Stai fermo non fa niente Tanto non ce la fa più Lo fa lo fa Non lo fa Lo fa Eh ormai Eh gioca Non lo sta facendo Vai tranquillo Ma raga non serve piccare con il triangolo Basta che usate la frecce in su Bello Così lo vede solo Matti E non lo vedo E non lo vedo E ha fatto tazzo serve il sto zero Porca puttana E' utilissimo E' messo... E' messo nel mu... Ma è distrutibile Ma è distrutibile Ma vatene a cagare dai Nooo non si può piazzare nei muri elettrici Infatti Gabri se riusciva a farlo prima Io riuscivo a vedere più ampiamente Perché riuscivo a metterli in un altro lato Beh si rimettano nello stesso luogo Riusciano la stessa maniera Zero è molto buono E vado con la mia P7 Perché mi garba Anche se non avevo le citate Io provo a riandare con... No ma io li avevo... Cioè stavo per fare tipo full team Ne avevo tipo tre Però mi sei scaricato il caricatore nel momento sbagliato Micca la disinnesco Ma sai che è così? Quasi la potrei prendere io il disinnesco Così e piazzo... E piazzo i cosi per vedere quando... Lascio io Sì lasciamo a te perché funziona sta roba Vabbè... Dov'è che spawni? Uno è morto E spawnoooo Dove sei spawnato? Ti sei termite, che sei da.. No knock knock No... Ah beh spawno da te Ah, sono sotto No, ma ci può passare comunque Ah, ma c'è da sotto Gli alibi gli è morta Cazzo, il nera, il Twitch ce l'abbiamo Ma c'è, questa è una botola o una luce? Non riesco a capire, no, è una luce Questa è una botola No, almeno Non ci sono delle botole in cucina Ragazzi, hanno spaccato la porta, hanno spaccato la porta Subito qua Non so se vogliono sponchillare Ok Mi piace meglio il dirinnesco, Michel L'ho cagato Gabri, mi devi togliere i muri elettrificati Che non ci stanno Quindi mi sta... buono Ah, perché tanto ha messo la roba laser Quindi è inutile E io vorrei capire cosa succede Ah, scoppia Sono riuscito a fare il mira Sono riuscito a fare il mira Se puoi entrare, scoppia, raga C'è qualche duono all'entrata principale Il mira, no? Eh, vi hai fatto, ok C'è una l'entrata principale Capkan C'è qualche re che ha provato a pusharmi con il C4 Ok, ho ferito pesantemente Capkan Raga, guardate la mia videocamera Si vede un po' di cucina, se volete Guardatevela poi, se volete Qualcuno che mi spacchi sto muro? Ah, ma non c'è ben nessuno per spaccare, raga Buongiorno Ah, Plippo è morto Vuoi vedere cosa fa qua? Sono qua in due, raga Una figata Guardatemi le cam, raga Ditemi se guardano poi da dove voglio Ma come facciamo a guardarti le cam, porca troia Ma cazzo, la vedete la mia cam, quelli morti, no? No, abri, guardate la te Ha solo guardato Ma cazzo, raga, io non so come incazzare Cazzo, mica Preso, dai No Mi sono dimenticato Guardatemi la can, lì, aperto Porco diiii Non cerca un cazzo Mi cerca, porco diiii Minchia, te li stavo spottando Ma non mi serve che spottino Perché volevo prendermi Dai c'è di corpo al corpo, dai c'è di corpo al corpo, via Vabbè, vabbè, ma sono entrambi Bravo, Matt Vai, provaci Eh, vaffanculo Mite, non ho tant'anni per distruggere Dai, per cazzo Mi hanno giocato, abbiamo mai Però è morto No, vabbè Lo potevo fare in 13 secondi, coglione È sempre meglio che prendiamo noi Ha detto Thermite, non Matte Madonna mia, sei proprio specifico con i nomi Ma Capcom vi aveva ammazzato tutti quanti Raga, pigliatevi voi Io ce l'avevo all'inizio Però l'ho dovuto lasciare con metà vita Vado con Montagna Eh, ma raga, se non avete uno con Twitch È uno che distruggere È un toucher Twitch E toucher non c'è Un Twitch, raga, un Twitch Vado io, vado io, vado io Ok, ok Stavo per prendere, va bene Ah, è vero che toucher non c'è Era la partita prima che c'era C'è toucher Eh sì, era Gabriel Ah, vabbè, è vero Ah, c'ho le viti di Bana Che zio Molto, molto click, è Bana Io allora aspetto, raga Ditemi dove suono Allora, sicuramente non sono qua Perché in cucina sicuramente non perché hanno vinto Eh, potrebbe essere di nuovo sopra Sopra anche hanno vinto Però non si fa No, no, no Raga, sono dove erano prima Eh, sono qui sopra, infatti Ma perché siamo ai match point Quindi possiamo Ah, ma Matti ha le cariche infinite Twitch Ma siamo oltre a due Che noi ci puoi Cioè, vince lì Vigil Sì, ha tre cariche nel caricatore Però ce l'ha infinita C'è il simbolo dell'infinito a fianco Buono Quindi vuol dire che si ricaricano Sì, si ricaricano Ok, guardate Guarda, mi chiede lì dal biliardo Matti mi dovrei fare pulizia Ah, no, ma non c'è nessuno elettrico Mi pare Ah, ti sto guardando Dove avevi Dal lato dove avevamo vinto Prima non c'è nessuno E non mi sembra che ci sia tanta attenzione Oltre che al buco Che hanno fatto Però è enorme Quindi non vogliono piccare sicuramente Quindi da dove hai pushato dai prima Si può fare festa Chi ha spaccato qua? Uno dalle scale Ciao, Gabriele Ma raga, ma non possono distruggere la casa? Ehi, partì dalle scale lì a fianco Ma si può distruggere il... Ma non l'ha distrutta la videocamera, scusa E' scappato poi dal... Oh Dio Ma verabili Mi ha distrutto un dono Dio che palle Ah Col bastardo cazzo c'è eco c'è quello lì che è nella camera blu dove c'è Capkan è una camera dove hai vinto te Matti dietro il bar non c'è nessuna potrebbe esserci lì dove c'è Filippo è ancora lì dietro il bar blu Capkan lo sta pushando Flip non lo vedo più non sono più sicuro è sotto il tuo muore non è ancora messo un ferimento cazzo no raga troppo tardi dovremmo ucciso da Filippo ucciso da Filippo ok da Filippo ok Capkan l'hai preso perfetto dobbiamo iniziare un po' ci dovrebbe essere uno dal biliardo dentro ci ha messo una camera è una telecamera ragazzi dal dal biliardo guardate non ha ancora capito cosa che è pieno è successo ok va bene forse ne sta come capire sento dei colpi arrivare da destra raga da dietro potrebbero arrivare ci va Filippo ci dico cosa vede ci mette una Claymore ma perché ho messo un cosa a disposizione raga che cazzo guardami guardami il coso bravo prendi oddio raga lui ancora in ferimento lo puoi rianimare appena lo fai no che sfiga l'avevi così fatto ma raga mancava un secondo avevamo di nuovo vinto eh ma sono morto io avevamo di nuovo vinto perché se la piazzavo rifacevo il giochetto di prima del muro ma erano di più mi sembra erano in due ma quello là sapevo dove era perché è andato in ferimento andiamo in cucina che ce l'hanno giocata benissimo raga che mi prendo da Chunk prendo ecco io non so se è mute o Jäger mi prendo Jäger dai è molto più utile secondo me da Chunk ma si potrebbero avere Fuse è utile perché potrebbero fizzare da sopra potrebbero no potrebbero fizzare da sopra la cucina chi cazzo c'entra Tachanka con Fuse vabbè io lui è Jäger ah io di Cacchi perché stavo parlando di altro stavo commentando la scelta di Matteo ma io stavo commentando la pure che cazzo mi serve quel speriamo che non abbiano Twitch perché io ho già posizionato raga e devo andare a fishare perché devo la buttare mi sta esplodendo il cazzo Sperito un drone corto dio mi sono mette mi troppo io me la trasmetti pure a media buono poi mi spaccate qua spacco via abbandonato la partita uno ha crashato dunque vuoi che ti no va bene così va bene così finestra da me finestra da me finestra da me finestra da me porta finestra cucina si finestra cucina guardo io non piccate no ma intanto c'ho anch'io e c'ho anch'io il maestro si entrano li sto ce n'è uno qua guarda è il maverick allora raga dovete controllarmi però con la porta del bagno dove sono io perché io guardo i droni ci stavo guardando io dalla porta però non posso vedere lasciate stare mi raccomando c'è sempre il maverick cazzo non so che c'è iban c'è nomad fuori dalla finestra cazzo dalle scale come ho fatto a insta killarmi te la guardo io il bagno guardo io il bagno guardo io il bagno che arriva dal bagno mattino guardo io il bagno se vuoi ma non è vabbè ma come cazzo sei morto ma c'è vedavamo chiaramente due cose diverse però sono da sola adesso devo proteggere da una parola sto guardando il bagno matti sto guardando guarda principale porta principale si l'ho detto 30 volte l'ho detto arriva vabbè non ci spero non può questa porta qua c'è gente grazie è entrato minchia stonata 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 porco dio raga come cazzo ha fatto a uscirmi qui maverick 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 e dentro cucina ragazzo bravissimi cazzo dal bagno dal bagno dal bagno dal bagno ho il disinnescatore che continui a sbagliare perché sono dalla porta principale raga occhio al bagno io guardo il disinnescatore guardatemi anche le cami di maestro sto tenendo d'occhio il disinnescatore c'ho il drone c'ho il drone di eco sul disinnesco c'ho il drone di eco sul disinnesco lo guardo io guardatemi le mie di cam che sono perfetto guardo il disinnesco io guarda come ha fatto che c'è ah infatti eh merda da me non c'è più il bandit cazzo eh porco dio lì termite oh eccolo eccolo i due dalla cucina ok ti stai spostando col tuo guardo col maestro occhio arriva da me bagno 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 preso guardatemi matti stavi perdere rimassatelo ho visto ho visto ho visto ho visto dopo che c'era in traiettoria mi poteva vedere madonna gabri grande ma raga io ho fatto degli etchiotte in sta partita ho fatto due etchiotte c'è la madonna eh è in attacco raga qua è dura qua si loro giocano bene non so se andranno sopra se andranno sopra cristo dove sono andati la prima volta che hanno vinto anche abbastanza bene dal biliardo sopra no aspetta in quella lì io devo andare sul tetto e fare i bocconi però mi serve un twitch matti no li piace dove avevamo vinto con la volta lì però devo cercare di non creparmi probabilmente si rimetterà ecco cibo raga io con zero riesco a fare però mi dovete distruggere le pareti da da cosa così almeno faccio vedere perché te le distruggo io dimmi da chi no dai muri perché mettono i muri se c'hanno un bandito con qualcuno li elettrificano io non posso metterla io provo a fare quello che posso perché toucher l'hanno levato è per quel motivo lì che l'hanno levato raga minchia stagliare toucher è un culo eh sì ma a quest'ora avremmo già vinto se non lo sai cliccare bene con Twitch sono sotto fidi puttana se la sento noti hanno vinto in cucina si hanno vinto in cucina hanno vinto hanno vinto in cucina hanno vinto avevano messo il mira avevano messo il mira oh fallo scoppiare cazzo ma io sono un coglione sono andato tranquillo penso di fare un drone porca troia il mira te lo ricordi ma si ma vaffanculo lo so come si fa raga io devo ritornare qua guardate dove sono io con il mio drone io metto le telecamere qua in questo muro si va bene ho capito qua quindi qualcuno quindi devi dare la mano io vengo io a spaccare con te matti si occhio perché c'è il capo che anche gira lì quindi non siamo mai nel sole tanto posso spaccare anch'io perché c'ho la carica da spaccare io raga sto rintanato a parte che non hanno non hanno robe elettriche attenti l'ingresso 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 cazzo c'è gente provo ad andare a prendere il mira vediamo un attimo allora controllo un po' l'ingresso se c'è qualcuno ti lancio il lancio allora suca gli ho aperto i mira gli ho aperto i mira ok e basta ok io scendo giù di sotto va bene dimmi quando sei entrato volete scendere da qui in mezzo volete scendere sì perché devo piazzare i cosi scendo io allora io entro da a questo posizionato un arbus raga lì dentro stanno castle e un altro ah ma me lo possono spaccare vaffanculo allora occhio a pingare raga jager raga c'è jager sotto loro sono sotto no c'è jager che mi ha visto che sono qua ciao ma raga ma che cazzo ma c'è qualcuno che mi può aiutare qua niente va bene ok mi viene stato retta per la tutela sono stupido 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 ma dovrete dio ma sei un coglione ritardato porco dio 40 secondi no ma che cazzo no ma che cazzo no era una sopra porco dio porco dio dai dai eh si riescono a difendere bene sti coglioni in teoria dovremmo essere noi adesso in difesa e forse la vinciamo forse round 9 si inverte siamo noi in difesa in teoria andiamo sempre in cucina raga no l'abbiamo vinta no l'abbiamo vinta dovremmo andare sopra dobbiamo andare ad atti com theater è l'unica mi sembra buona si però bar blu e bar alba non mi speseva dai un abbandonato raga sceglie ti veloce michel veloce no ma che c'è anche filippo dai filippo pezzo di merda non vedi che ha quitato uno su vabbè che è uscito il più scarso quello che c'eva a zero kill però va sempre qualcosa una distrazione a meno cazzo è peccato che però che lo riescono a distruggere quindi ho giro basta spararmi un po' è un po' una fregatura però perché deve essere tottico si nota poco però no più che altro sai cosa non bisogna fingare bisogna tenerlo lì quando uno muore glielo dice senza fingare perché se fingi capisco che è ma sai che si può pingare tranquillamente con la frecce in su e tu lo vedi no minchia non curare lì no no non guardare lì una barricata è stata sprecata cazzo no qui però ci hanno fatto al culo non ce l'ho sposto dai un sposto dai bar vediamo la seconda volta non ci avevamo fatto il culo ah la lo scudo qua raga mi serve occhio occhio però passare niente vabbè mi prendo quella bomba raga uno con me eh io sto da B che da no cos'è questa B cazzo questo scudo di merda si ma porco dio hanno aperto la botola del bagno ma c'hanno uno con lo scudo ok stanza musica stanza musica va sono ancora fuori stanno entrando pipo vai 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 pipo vai pipo zitto no pipo io sono ancora lì c'è montagna occhio cazzo ho preso la videocamera ho preso la videocamera sento un montagna occhio raga da da finestrone che c'è la tipa col cecchino si si ma basta non andarci adosso di cazzo ok matt io c'ho il drone fuori dalla nostra porta se vedo qualcuno ah eccola qua uno dal divano raga circolare è entrato nella stanza se leggi cazzo io brutto figlio di puttana inculasse tua nonna merda montagna stonato dall'altra stanza l'hai visto l'hai visto? no montagna è qua giù raga il montagna è entrato raga ci sto andando ci sto andando sto andando ucciso 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 però ci sta dai guardami negli occhi guardami negli occhi guardami negli occhi mi ha rubato la prima posizione all'ultimo guarda c'è una bella schieny si michael esci chi doveva andare a pisciare di abono aspetta che voglio vedersi beh dai come prima classificata raga abbiamo giocato bene contro chi erano argenti argenti o oh pack pack esci pezzo di merda danese bastardo schifoso muoviti